Capitano Rambo, che diavolo stai facendo? Mi avvicino al punto di salto. Ho delle indicazioni per te, Fiori. Monica? Pronto? Monica? C'è qualcuno? Mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio! Capitano Rambo? Sì! Oh, cavolo! Nick Fiori! Salve! È una roba d'Avengers! Dov'è Capitano Rambo? Un momento! Ma che... Salve! Siamo qui per Kamala Khan. Sono dentro? Ecco, i nostri poteri sono intrecciati. Io posso assorbire l'energia. E tu, in teoria... Vi faccio vedere. No! No! No, ancora! Salve. Dov'è nostra figlia? Ovunque fossi tu. Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Siamo un team? No, 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 niente team. Non siamo un team.